Ecco, allora sfatiamo un mito, sfatiamolo. Non è vero che le donne non fanno figli perché lavorano e sono occupate nell'occupazione e nel lavoro. No, le donne non fanno figli perché non hanno lavoro. È ben diverso. E quando le donne hanno un'occupazione sicuramente sono tenute a lavorare moltissimo perché al lavoro retribuito si aggiunge tutto il lavoro di cura e di gestione della famiglia. E fatemi dire che questa è una peculiarità molto italiana. Ancora oggi nel terzo millennio si ritiene che occuparsi dei figli, degli anziani, della gestione della famiglia sia prerogativa prevalentemente femminile. Ecco, è qualcosa che non si comprende e penalizza enormemente le donne.